luca possiamo dire dopo tanti anni bentornato a casa in brianza ripartito da bambino nel base 96 a seveso poi olanda germania italia sud mancavi da tanti anni bentornato da tantissimi penso da quasi 25 anni però insomma sono nato cresciuto in brianza e quindi sono contentissimo di essere tornato a casa come sono le prime sensazioni tra l'altro si è arrivato c'era subito il dottor galliani nel nuovo mondo monza che clima avverti ma un clima sereno e che ha voglia di lavorare poi il dottor galliani insomma delle ambizioni grandi così come tutto il monza quindi siamo pronti a fare una grande stagione ti possiamo definire un leader perché sei stato capitano nel benevento ma anche nella nazionale under 21 porti anche personalità a questa squadra ma sicuramente questa è una delle mie qualità però ci sono tantissimi giocatori di esperienza che daranno sicuramente una mano come si sale in serie a perché tu hai fatto quella cavalcata incredibile col benevento come pensi quale sia la ricetta per andare in serie a ma sicuramente bisogna lavorare fin dal ritiro perché il campionato lungo e quest'anno è molto difficile poi ovviamente bisogna bisogna rimanere concentrati tutte le partite perché la bia un campionato insidioso e quindi perdere punti per strada poi magari ti permette di non ti permette di salire adesso sei pronto insomma per giocare le prime amichevoli fisicamente mentalmente come ti senti bene bene sto bene sto andando con la squadra quindi sono pronto per per indossare la maglia del monza e cominciare la cavalcata